Un augurio scoppietante con le mitiche grandi Cindy Girls Quest'anno video collaborazione per gli auguri di Capodanno con il Botto li facciamo tutti insieme con un filo conduttore che ci lega tutte quante chissà mai cosa sarà questo filo conduttore intanto ve le presento una a una Musica Vi invito ad andare a guardare il mio augurio personale a voi tutti Musica Per il 2020 che se ne va vorrei dire solo una cosa Meno male che te ne vai Per il 2021 vorrei dirne un'altra Mi raccomando non fare cazzate come il 2020 Tanti auguri e Buon anno Ciao Ciao